Quello della sanità rimane sempre un tema molto caldo. Tra l'altro la città di Fano sta attendendo proprio un consiglio monotematico sulla sanità insieme ai vertici della regione. Sì, come i telespettatori di Fano TV ricorderanno, sono ormai sei mesi che chiediamo di convocare una seduta del Consiglio Comunale di Fano che sia interamente dedicata ai problemi della sanità nella nostra città e nel nostro territorio. Ovviamente alla presenza delle istituzioni che hanno competenza in materia, cioè le massime istituzioni regionali, il presidente Acquaroli e l'assessore Saltamartini. Purtroppo, nonostante il tempo trascorso, ancora questa seduta non si è convocata, però Acquaroli e Saltamartini hanno trovato il tempo nel giro di un anno e mezzo di partecipare per ben due volte a iniziative analoghe promosse dal Consiglio Comunale di Pesaro. Per questo, secondo noi, è significativo della diversa considerazione che purtroppo la regione, guidata dalla giunta di centrodestra, ha nei confronti delle due città. Ammazzanti, c'è il rischio concreto che questi 50 posti letto di cui tanto si discute possano essere sottratti alla città di Fano? Purtroppo è un timore che noi abbiamo, ma diremmo che ormai è quasi una certezza, perché appunto notizia di questi giorni che un gruppo imprenditoriale importante della sanità privata ha avviato le pratiche per insediare a Villa Fastigi a Pesaro una clinica privata da 80 posti letto, in buona parte convenzionati, quindi finanziati dal servizio sanitario regionale. E quindi purtroppo c'è ovviamente l'assoluta possibilità, probabilità, se non certezza, che lì vengano dirottati i 50 posti letto che originariamente invece erano previsti nel 2018 per Fano, ma non sono mai stati attivati in tutti questi anni. Nonostante il Consiglio Comunale di Fano, col voto contrario del centrodestra, lo ricordo, abbia chiesto appunto di destinarli all'ospedale pubblico Santa Croce. Se non ci sarà un ripensamento, si tratterebbe ovviamente dell'ennesimo atto di impoverimento e di umiliazione della sanità della nostra città e ovviamente stupisce che questo venga da quei partiti come Lega Fratelli d'Italia che hanno fondato la propria campagna elettorale sulla difesa della sanità pubblica e anche ovviamente della sanità fanese. Questo a discapito anche del progetto originario per i termini di Carignano? Sì, come abbiamo appreso, la proprietà ovviamente ritiene che i 50 posti letto nella città di Fano siano fondamentali e comunque di grande utilità per avviare questo progetto imprenditoriale. La posizione del Movimento 5 Stelle di Fano su questo è sempre stata lineare. Noi riteniamo che quei posti comunque vadano al pubblico, in particolare all'ospedale Santa Croce, proprio perché avevano una vocazione ortopedica e sappiamo tutti che fino a qualche decennio fa il reparto di ortopedia nell'ospedale Santa Croce era un fiore all'occhiello della nostra sanità che purtroppo negli anni è stato smantellato. Quindi ecco, questi 50 posti letto è importante che rimangano al Santa Croce perché avvierebbero in una sorta di sinergia anche tanti altri progetti ed energie positive nella nostra città. Ci auguriamo che il sindaco di Fano recuperi quel protagonismo che purtroppo in tutti questi anni è mancato, anche se confrontato con l'attivismo di tanti altri sindaci. Grazie.